Un calo di affluenza alle urne di circa 20 punti percentuali rispetto alle elezioni di quattro anni fa, quando però si votava in un'unica giornata. Alle ore 23 di domenica 22 ottobre a Foggia si è recato alle urne solo il 46,68% degli aventi diritti al voto, ovvero poco più di 55.000 foggiani su 119.000, nemmeno la metà. Allo stesso orario del 26 maggio del 2019 il dato si assestava al 66,74%, una flessione notevole che a due anni dallo scioglimento dell'amministrazione comunale per infiltrazioni mafiose racconta di un assenzionismo quasi annunciato e di quanto la disaffezione politica colpisca oramai larghe fasce di elettorato. Nelle 147 sezioni allestite tutte le operazioni di voto sinora si sono svolte nella massima regolarità, 5 i candidati a primo cittadino, 23 le liste in tutto e una carica di 700 candidati a consigliere comunale. Stamani seggi nuovamente aperti dalle ore 7 fino alle ore 15, dopodiché partirà lo spoglio per conoscere il nome del nuovo sindaco del Capoluo Dauno e dei 32 consiglieri eletti. In caso di ballottaggio si tornerà alle urne domenica 5 e lunedì 6 novembre. In caso di ballottaggio si tornerà alla zona imbANO a perdonare le ru начала di capolio di tradino 2lt ag accumulated력反zionato dal tag